Principalmente l'esame base, la visita cardiologica con un elettrocardiogramma alla quale solitamente si associa un'ecocardiografia, talora una prova da sforzo, alla cyclette poter aggiungere una pedana mobile, un treadmill che favorisce l'esecuzione di una prova da sforzo in determinati soggetti, in determinati pazienti, artrosici, pazienti con protesi, quindi una diagnostica incruenta che può essere l'anticamera per ulteriori successivi esami che alcuni possono già essere eseguiti qui, tipo TAC, tipo risonanza magnetica, per arrivare poi ad esami cruenti tipo le coronarografie, di pertinenza ospedaliera, ma già riuscire qui a fare un primo e secondo livello di indagine è quanto mai importante e significativo.